Modulo 1. Ricette rituali e loro documentazione attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali. Etnografia. Quale ricetta e rituale? Criteri di valore storico e culturale per la conservazione delle ricette. Significato della conservazione di ricette o metodi di cottura in via di estinzione. In tutto il mondo oggi, popoli diversi utilizzano pratiche culinarie e metodi di preparazione dei cibi che appartengono e provengono da forme di cottura precedenti e spesso particolarmente antiche. Studi antropologici ed etnologici dimostrano che la cucina dei nostri antenati coinvolge manufatti speciali, competenze tecniche e competenze di base, legate all'alimentazione e all'ambiente. Le tecniche tradizionali e artigianali sono un patrimonio culturale immateriale, importante per preservare un processo di preparazione del cibo sviluppatosi nel corso dei secoli. Generalmente la preparazione dei cibi, anticamente, prevedeva tecniche di lavorazione manuale. Attraverso la caccia, la raccolta e l'agricoltura, le carni e le piante venivano lavorate a mano in diversi modi. Alcuni di loro hanno subito cambiamenti irreversibili per garantire la sicurezza alimentare. Tuttavia, molti sono ancora utilizzati, soprattutto per ottenere un gusto e una consistenza, che non è possibile ottenere con i moderni apparecchi di cottura. In alcuni casi il termine «fatto a mano» viene utilizzato per indicare la qualità del prodotto, ma spesso è utilizzato anche per scopi di marketing. In questa diapositiva indichiamo le tecniche artigianali più diffuse. Una di queste è la cottura, e quella più antica è l'arrostimento sul fuoco. Generalmente, i metodi di cottura più comuni erano fatti a fuoco vivo. Le prime forme di cottura a fuoco aperto sarebbero consistite nel mettere gli ingredienti alimentari direttamente nel fuoco. Alcune società indigene cucinano ancora in questo modo. Sappiamo, dalle prove archeologiche, che gli esseri umani hanno cucinato sul fuoco sin dall'età della pietra. Oggi, amiamo ancora cucinare con il fuoco, ovviamente, siamo solo diventati sempre più abili nel controllare il fuoco. I metodi di cottura più comuni erano fatti su un fuoco all'aperto, come bollire, friggere, cuocere a fuoco lento, stufare, grigliare e arrostire su uno spiedo, in cui la carne, come capra o agnello, era legata a un bastone e ruotata a mano sul fuoco. Questo metodo è ancora utilizzato oggi, spesso con uno spiedo motorizzato, sia in Grecia che in altre parti del mondo, in particolare quando si cucina un agnello pasquale. Le prime pentole da cucina erano fatte di argilla e pentole simili, smaltate e cotte, sono ancora utilizzate oggi in molte parti del mondo. Un'altra tecnica di preparazione del cibo è la conservazione del cibo. Per necessità, perché la refrigerazione era inesistente, oltre alla cottura, le antiche civiltà conservavano gli alimenti affumicandoli, essiccandoli, salandoli e conservandoli in sciroppi e grassi. Gli alimenti venivano spesso conservati con una guarnizione di olio per tenere fuori l'aria. Ad esempio, il merluzzo bianco, piatto nazionale portoghese, veniva salato per preservare il pesce e assicurarsi che il pescatore potesse avere il cibo di cui aveva bisogno per molti mesi in mare. Il sale ha spiccate proprietà antibatteriche, che consentono di conservare il pesce per lunghi periodi di tempo, anche a temperature calde. La fermentazione è un prezioso metodo di conservazione degli alimenti. Non solo poteva conservare gli alimenti, ma creava anche cibi più nutrienti ed era usato per creare cibi più appetitosi da ingredienti non proprio desiderabili. La storia dice che questa tecnica non fu inventata, ma piuttosto scoperta, in quanto, la prima birra fu realizzata, quando alcuni chicchi d'orso vennero lasciati sotto la pioggia, ma in seguito queste tecniche di fermentazione furono utilizzate dagli antichi anche in altri prodotti, conosciuti anche oggi, come i crauti o il processo di vinificazione. Esistono anche altre tecniche di preparazione del cibo, come il decapaggio ovvero mettere sott'aceto, conservare i cibi nell'aceto, o altro acido. Il decapaggio potrebbe aver avuto origine quando il cibo veniva messo nel vino o nella birra per conservarlo, poiché entrambi hanno un pH basso. Marmellata e gelatina. La conservazione con l'uso di miele o zucchero era ben nota nelle culture più antiche. I frutti tenuti nel miele erano all'ordine del giorno. Nell'antica Grecia la mela cotogna veniva mescolata al miele, essiccata un po' e confezionata ermeticamente in vasi. I romani migliorarono il metodo cuocendo le mele cotogne e il miele producendo una consistenza solida. L'inscatolamento è il processo in cui gli alimenti vengono posti in barattoli o lattine, e riscaldati a una temperatura che distrugge i microrganismi e inattiva gli enzimi. Questo riscaldamento, e il successivo raffreddamento, formano un sigillo sottovuoto. Il congelamento era un metodo di conservazione ovvio per i climi appropriati. Qualsiasi area geografica che avesse temperature di congelamento anche per parte dell'anno utilizzava la temperatura per conservare gli alimenti. Temperature inferiori allo zero sono state utilizzate per prolungare i tempi di conservazione. A tale scopo furono sfruttate cantine, grotte e freschi ruscelli. Qui abbiamo alcuni prodotti artigianali più popolari, che fanno parte del patrimonio culinario europeo. Produzione di formaggio Parte del processo di caseificazione artigianale è la stagionatura e la maturazione dei formaggi per sviluppare sapore e caratteristiche materiche. Il formaggio artigianale può provenire da qualsiasi tipo di latte, da mucca, da pecora, da capra e bufala. Diverse regioni del mondo producono diversi tipi di formaggio artigianale. Il Lettonia e gli Uciers è un formaggio fresco a base di latte acido, prodotto con latte e cagliata secondo un metodo di preparazione tradizionale immutato da secoli. Il formaggio viene consumato durante le celebrazioni del solstizio d'estate, una festa lettone chiamata G. Per quanto riguarda la vinificazione. Le culture antiche, per produrre vino, dopo la vendemmia, pigiavano l'uva con qualsiasi mezzo, ma il metodo più diffuso era quello di pigiarla in grandi tini a piedi nudi. Il vino della Toscana Italia ha una lunga storia che risale al V secolo avanti Cristo. Probabilmente, la più importante di tutte le uve da vino italiane, il Sangiovese, rappresenta circa i due terzi di tutte le piantagioni e l85% del volume di vino rosso nella regione toscana. I metodi di stagionatura del pesce o della carne mediante essicazione, salatura, affumicatura e salamoia, o combinazioni di questi processi sono stati impiegati fin dall'antichità. Il maiale affumicato e il pollo sono un piatto nazionale che esiste in Lettonia da molti secoli. Infine viene, ma non meno importante, la tradizione della panificazione. Il pane è apparso in tutti gli angoli della terra quando le persone hanno imparato a coltivare le piante. Era fatto con ingredienti diversi e in modi diversi, ma è diventato l'alimento base di tutte le culture. Il termine pane artigianale evoca l'immagine di fornai artigiani maestri del loro mestiere, che modellano il pane a mano e utilizzano solo gli ingredienti base del pane, farina, acqua, lievito, sale e soprattutto il tempo. Il rupgemaiz è un tradizionale pane scuro a base di segale ed è considerato l'alimento base della dieta lettone. I primi riferimenti scritti al pane di segale lettone si trovano in un ricettario del 1901. Il corso è stato creato dal consorzio del progetto Eurica finanziato dal programma Erasmus Plus. Grazie per l'attenzione!